Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, oggi 11 ottobre, eccoci nuovamente insieme per il solito aggiornamento quotidiano in merito ai pagamenti che sono in corso a quelli che stanno per arrivare. Chiedo sempre a tutti voi di mettere un bel like per premiare la tempestività dell'aggiornamento e se vi fa piacere iscrizione alla pagina ed al canale. Si parte subito con la prima novità importante, INPS oggi 11 ottobre ha iniziato già le lavorazioni per le ricariche straordinarie inerenti all'assegno di inclusione ADI, quindi diciamo a breve scopriremo anche la data per il pagamento. Vi ricordo che questi pagamenti sono destinati per chi prende la prima volta il sussidio. Andiamo avanti ricordando a tutti voi che sono attualmente in corso i pagamenti per la disoccupazione della Naspi e contestualmente sul fascicolo previdenziale del cittadino di INPS stanno uscendo nuove date e che questo pagamento andrà avanti per l'intero mese di ottobre. Ci spostiamo adesso ai rimborsi del 730, vi ricordo che sono attualmente in corso quelli per le famiglie che hanno come sostituto d'imposta l'istituto INPS, mentre tutti coloro che non hanno sostituto d'imposta e devono ricevere i rimborsi da parte di Agenzia dell'entrata, i pagamenti sono previsti per la metà del mese di dicembre. Questa mattina 11 ottobre sono iniziati anche i pagamenti per il trattamento integrativo sulla Naspi, qualcuno lo chiama bonus IRPE, FX bonus Renzi da 100 euro. Come ben sapete poi ci sono le lavorazioni in corso per l'assegno unico universale mensilità di ottobre, le date ufficiali per coloro che non hanno subito variazioni del proprio nucleo sono 16, 17 e 18 ottobre, mentre per le nuove domande e per chi ha subito variazioni del proprio nucleo i pagamenti sono dal 25 al 31 di ottobre. Andiamo avanti e ci spostiamo alle ricariche ordinarie. Non sappiamo ancora se arriveranno con un piccolo anticipo al 25 di ottobre oppure ci spostiamo al bonus SFL supporto formazione e lavoro da 350 euro, ricordandovi che ha una durata di 12 mensilità e che attualmente da parte del governo non c'è stata nessuna proroga. Pagamenti straordinari attesi per il 15 mentre pagamenti ordinari sono attesi per il 28 perché vi ricordo che questo pagamento non arriva mediante ricarica bensì tramite bonifico. Questo era l'ultimo avviso, ci aggiorniamo alle prossime notizie.